Roma-Fiorentina termina con la vittoria della Roma sulla Fiorentina stasera, 22 agosto 2021, tre gol meravigliosi che la Roma compie e realizza nei confronti della Fiorentina che ne fa soltanto uno. Un meraviglioso tris di gol. A segnare i tre gol sono stati Italian al 26esimo minuto di gioco del primo tempo, Vertut al 64esimo minuto del secondo tempo e sempre Vertut al 79esimo del secondo tempo. Arrivata purtroppo l'espulsione di Zaninola al 52esimo minuto di gioco. Per quanto riguarda invece la Fiorentina, a segnare l'unico gol è stato Milenkovic al 60esimo minuto di gioco del secondo tempo. Che partita è stata? Una partita dove la Roma ha veramente sfoggiato grandi armi, grandi capacità, brio, veramente esortuto tanta tanta professionalità. È questa la Roma di Murigno che a me piace. È questa la Roma di Murigno che a me entusiasma, che lascia felice, che lascia soddisfatto. Ok? Quindi questo vi vengo a dire. Detto ciò, grazie a voi tutti utenti di YouTube, il video termina qua. Iscrivetevi al canale, narratore italiano, commentate, facendovi sapere cosa ne pensate. Mettete un bel mi piace perché a me interessa che arrivi un mi piace ai video che vado a realizzare. Grazie a voi tutti, 3 a 1. La Roma vince dunque contro la Fiorentina. Tutto va bene, un trist di gol meravigliosi. Ciao, al prossimo video ripeto, un salutone caro. Buonasera da voi. Grazie.